Dopo Jean-Claude Van Damme con il suo Killemol 2, adesso è la volta di Scott Eastwood, in questo caso regista ma anche figlio del celebre attore Clint. Il quartiere di Loseto, nel municipio 4 a Bari, ancora una volta si trasforma in un set cinematografico. È sbarcata più in generale nel capoluogo pugliese una nuova produzione cinematografica con camion e mezzi che si sono insediati per cominciare nel rione periferico, tanto nella zona vecchia quanto nella zona nuova. Il film che viene girato si chiama Stolen Girl. Le riprese proseguiranno poi anche in altre zone della città, nel quartiere San Pasquale, precisamente nella zona di Via Mendola e poi a Palese. L'arrivo della troupe ha chiaramente suscitato grande curiosità ed anche entusiasmo tra i residenti, una vera e propria caccia al selfie. Ad ogni modo Bari cerca di esaltare le sue bellezze e la propria peculiarità non solo nelle zone centrali ma anche in quelle sconosciute ai più. Sono stati giorni un po' particolari anche per quanto riguarda i residenti che si sono dovuti regolare diversamente per quanto riguarda i parcheggi nelle zone interessate dalle riprese e dalle prove.